Regione Toscana, il Consiglio regionale. In Consiglio regionale si è svolta la cerimonia del premio per tesi di laurea 2022 promosso e organizzato dalla Fondazione Gianfranco Salvini sul tema della neuro-riabilitazione. Il concorso ha premiato tesi del 2022 con contenuti innovativi discusse per conseguire la specializzazione in medicina fisica e riabilitazione in una facoltà situata sul territorio italiano. Il concorso è stato organizzato dalla Fondazione Gianfranco Salvini istituita dalla Clinica di Riabilitazione Toscana nel 2019 con l'obiettivo di promuovere, finanziare e condurre in ambito nazionale e internazionale attività di studio e ricerca scientifica, soprattutto in campo medico e farmaceutico, con particolare riferimento all'attività della clinica riabilitativa. Nell'ambito dell'intero percorso assistenziale del paziente, da regime di degenza ospedaliera al reinserimento domiciliare. La Fondazione Gianfranco Salvini, dopo aver promosso una serie di progetti estremamente importanti in campo riabilitativo, ha deciso due anni fa di dedicarsi proprio ad incentivare la ricerca per i giovani, cercando anche di investire le risorse che la Fondazione ha a disposizione per favorire proprio la ricerca, per favorire la ricerca e per favorire quelle che sono le buone idee che nell'ambito della neuro-riabilitazione possono nascere dagli studi, dalle tesi fatte dai ragazzi. Il Centro Ricerche della Clinica di Riabilitazione Toscana ha da sempre una collaborazione con la Fondazione Gianfranco Salvini. Abbiamo ricevuto finanziamenti nell'ambito della nostra attività di ricerca di tipo traslazionale, quindi un'attività di ricerca che cerca di produrre dei miglioramenti nella qualità dell'assistenza al paziente, proprio attraverso la sperimentazione, attraverso il confronto e anche attraverso la diffusione di nuove strategie di cura. Abbiamo visto negli ultimi anni il passaggio da tesi sostanzialmente di tipo compilativo e aneddotico a tesi con impostazione scientifica che inevitabilmente attraiono dell'innovazione nell'ambito delle neuroscienze. All'evento hanno partecipato il consigliere Lucia De Robertis e il presidente della Commissione Sanità Enrico Sostegni, evidenziando l'importanza di sostenere la ricerca in campo medico e la bontà della collaborazione fra pubblico e privato con la Clinica di Riabilitazione Toscana, che non solo offre assistenza altamente qualificata a casi complessi, ma genera ricerca, sviluppo, innovazione scientifica a beneficio di tutto il sistema sanitario toscano e nazionale. Sì, è un connubio direi che vorremmo festeggiare tutti i giorni. Significa che abbiamo centrato l'obiettivo quello di creare una cultura dopo di noi, dopo le persone che in questo momento si stanno impegnando in questo ambito davvero importante della neuroreabilitazione. Significa investire sui giovani, significa fargli comprendere che le istituzioni sono vicine a loro. Io ho accolto con favore la richiesta dell'ingegner Boncompagni di essere presente qua con la fondazione, perché farlo all'interno delle istituzioni significa che le istituzioni accompagnano i giovani in un percorso che non solo è quello di ricerca, ma di investimento su se stessi e sul nostro futuro. Noi sappiamo che i luoghi dove la cura funziona meglio e dove la ricerca si sviluppa e dove si riesce a trasferire sulla parte clinica l'attività e i risultati della ricerca. Allora, la fondazione in questo caso fa questo, premia quei ragazzi che hanno fatto ricerca, quelle persone che hanno fatto ricerca e che sono riusciti a trasferire parte di questa ricerca sull'attività, in questo caso di riabilitazione. Quindi una finalità assolutamente in linea con quelle che sono della regione tutta e in genere del mantenimento e anzi dell'elevazione del sistema di qualità del sistema sanitario toscano. A vincere il premio da 2.000 euro destinato alla tesi di specialisti in medicina fisica e riabilitativa è stata Stefania Spina dell'Università di Foggia. Gli altri quattro riconoscimenti da 1.000 euro ciascuno sono stati assegnati a lauree triennali nella classe delle professioni sanitarie della riabilitazione, fisioterapia, logopedista, terapista occupazionale e terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva. Sono andati a Gloria Mataldi dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma, Sofia Gandolfi dell'Università degli Studi di Padova, Lorenzo Balducci dell'Università degli Studi di Torino ed Elisabetta Valentini dell'Università degli Studi di Siena. Io sono logopedista, lavoro con la disfaggia infantile, quindi con la difficoltà di deglutizione nell'età evolutiva, quindi nei bambini, preferibilmente. Ho fatto la tesi sull'asma, che è una malattia genetica rara, è l'atrofia muscolare spinale di cui si sa molto poco. Ho elaborato un protocollo di valutazione della deglutizione in modo da aiutare sia i bambini sia le famiglie in generale per una presa in carico e una migliore qualità di vita. Sono una terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva e ho svolto un lavoro di tesi dal titolo Attività assistita con animali nella sindrome di Rett, ipotesi di trattamento di supporto finalizzato al potenziamento delle abilità cognitive. Dunque, l'oggetto della tesi è la sindrome di Rett, che è un raro disordine del neurosviluppo, che ha un'incidenza di 1 su 10.000 nate vive. Questo studio è stato svolto in collaborazione con l'ACS Lazio, in quanto sono stati utilizzati i cani da salvataggio di questa associazione. L'obiettivo dello studio è stato quello di dimostrare come l'attività assistita con i cani da salvataggio svolta in acqua potesse essere un valido strumento di supporto a quelle che sono le terapie tradizionali. Sono una fisioterapista e lavoro presso il reparto di neuroreabilitazione dell'ospedale della Gruccia, più precisamente con le gravi cerebrolesioni acquisite. La mia tesi della laurea triennale ha riguardato l'utilizzo di realtà aumentata nei pazienti con stroke presso l'unità di stroke unit delle scotte di Siena. Con questa tesi ho utilizzato un visore Microsoft HoloLens che permetteva di aggiungere degli ologrammi alla realtà circostante. Con questo studio sono riuscita a dimostrare come una migliore partecipazione attiva del paziente all'interno del proprio percorso di recupero favorisse non solo un miglior recupero motorio ma anche una riduzione dei tempi di ricovero. Sono un fisioterapista, lavoro presso l'ASLTO5 in una riabilitazione di secondo livello. Mi occupo prevalentemente del trattamento di pazienti con patologie neurologiche e la mia tesi aveva come obiettivo quella di individuare, di verificare la fattibilità e la sicurezza dell'utilizzo di stimolazioni uditive ritmiche nel trattamento di persone con malattia di Parkinson in un contesto però di teleriabilitazione dato la recente pandemia da Covid-19 e dato il fatto che la letteratura ultimamente sta spingendo molto sull'utilizzo di tecniche di trattamento hands-off rispetto a quelle invece che richiedono il tocco terapeutico. Medico-fisiatra, lavoro a Foggia, attualmente è una borsa di dottorato con l'Università di Foggia, la struttura complessa appunto di medicina fisica e riabilitativa. La tesi che mi ha portato poi alla vittoria di questo premio riguarda l'utilizzo di una tecnologia a base di sensori inerziali applicata alla valutazione del paziente con ictus. Quello che ho fatto è stato appunto aggiungere questa tecnologia alla valutazione di questi pazienti e ci ha permesso di avere dei dati in più per valutare una di quelle attività più frequenti della vita quotidiana che è appunto il turning, la capacità di girare del paziente e questi sensori appunto ci hanno dato dei dati in più per valutare fattori di rischio, di caduta e altro e ci hanno permesso appunto di avere un follow-up del paziente migliore. È stata presentata in Consiglio regionale la campagna di Frates Toscana Donare Sangue, la ricetta della felicità. L'iniziativa rivolge un invito a donare sangue con l'obiettivo di aumentare la squadra dei volontari ed è promossa durante queste settimane attraverso tutte le farmacie della regione che per sostenere la campagna e dare visibilità alla raccolta del sangue consegnano le medicine in sacchetti di carta rigorosamente targati Frates Toscana così da raggiungere con il messaggio il maggior numero di potenziali donatori possibile. Frates Toscana oggi conta 12 consigli territoriali, 285 gruppi e oltre 1000 volontari e nel 2022 ha registrato oltre 62.000 donazioni garantite da un gruppo di 40.000 donatori. Durante la conferenza stampa sono però emerse anche le preoccupazioni del presidente dell'Associazione Toscana per il calo di donazioni di sangue registrato durante l'ultimo anno. La Toscana è una terra che non si è mai voltata all'altra parte, così i suoi cittadini. Credo però sia importante ancora di più in questo momento mandare un messaggio forte insieme a Frates dire che donare sangue vuol dire donare vita e chiedere a ognuno dei cittadini della Toscana che può farlo di fare la propria parte. È importante ancora di più in questo tempo e credo che le istituzioni debbano avere anche il compito di sensibilizzare e di sensibilizzare in questa direzione. Questa è l'idea che abbiamo voluto mettere in campo per il 2023 riduci da altre esperienze negli anni scorsi con altri tipi di promozioni di questo tipo. Abbiamo voluto tentare sulle farmacie, cioè in questi luoghi che comunque sono frequentati da numerosissime persone e molte delle quali magari anche sensibili a questo argomento che è la carenza appunto del sangue come abbiamo registrato soprattutto nell'anno 2022. E quindi nell'intento di cercare di prevenire quello che l'anno scorso è stato un brutto momento per la grossa carenza delle donazioni ecco che abbiamo messo in campo da qualche giorno a questa parte questa nuova campagna. In senso generale la Toscana ha perso circa 4,5% delle donazioni globalmente la Toscana. Noi come Frates siamo riusciti a mantenere la perdita all'1,87%. Comunque in termini numerici per noi sono circa 1.200 donazioni sulle 63.000 che di norma facciamo. Quindi è comunque pesante soprattutto la carenza dell'anno scorso che era stata una carenza di donazioni su tutto il territorio nazionale ha messo in crisi il sistema trasfusionale e quindi comunque il sistema sanitario perché non era neanche facilmente reperibile il sangue dalle altre regioni che normalmente invece in certe situazioni danno supporto alla Toscana. E allora ecco, questa iniziativa di Frates oggi è un'iniziativa fondamentale perché appunto la Frates come le altre associazioni hanno un ruolo di andare a cercare i donatori a parlare con ognuno di noi con i ragazzi più giovani anche in vista delle future donazioni con le famiglie, con le scuole per far capire anche con piccoli gesti anche quando si compra il pane anche quando appunto si va in farmacia ora a comprare un farmaco ricordarsi poi che con un piccolo gesto si può aiutare le persone quando stanno male il sistema sanitario a funzionare la produzione di farmaci importanti per la salute di tutti noi quindi veramente è una scelta che ognuno di noi ha e che le associazioni ci ricordano di poter fare e che serve a tutto il sistema sanitario. Si è svolta a Bruxelles una o due giorni per il Comitato delle Regioni al quale ha partecipato la Toscana con il Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo. Nell'incontro confronto con le altre istituzioni tra i tanti temi si è parlato soprattutto della produzione agricola e alimentare. Ascoltiamo l'intervento che ci è arrivato questa settimana da Bruxelles. In questi due giorni abbiamo trattato tante questioni che riguardano la vita delle cittadine e dei cittadini della nostra regione della Toscana. Abbiamo discusso relativamente agli affitti brevi in modo da poter offrire regole più chiare e maggiore trasparenza e poi abbiamo definito una iniziativa tesa a ridurre l'uso di pesticidi in agricoltura in modo da sostenere le api che sono fondamentali nel nostro ecosistema. E infine la necessità di lavorare perché venga rimosso dovunque in tutta Europa l'amianto e noi su questo come Toscana avevamo già iniziato a lavorare con un'apposita regge regionale. Infine l'impegno che mi prendo e questo per una regione come la nostra è fondamentale e che nella prossima sessione plenaria si discuta e si dica che siamo contrari all'etichetta sanitaria sui vini proposti dall'Irlanda. Siamo contrari perché questo è un modo sostanzialmente per toccare il nostro tessuto produttivo la qualità delle nostre produzioni e credo che ognuno di noi debba fare una battaglia perché resti anche in questo caso dalla parte giusta della storia quella a sostegno di chi produce e di chi investe sui nostri territori. Regione Toscana Il Consiglio Regionale